Noi abbiamo sposato questo progetto di terra di Gesù perché non opera soltanto a Messina, quindi sotto il profilo medico, ma opera anche, ecco, soprattutto nel territorio africano dove è stato fatto anche l'ospedale. Quindi ogni piccolo nostro contributo è dato dalla città che devo fare veramente un plauso ai messinesi perché sono sotto questo profilo veramente delle persone molto solitari e quindi hanno dato sempre molto alla città. E proprio ecco per questo il nostro contributo va ad aiutare veramente chi ne ha bisogno.